Allora, sono con Alessio Martinelli, una delle poche voci maschili di questo contest, ma ormai spesso nei concorsi musicali che Sanremo stesso insegna sono più le voci femminili che non quelle maschili. C'è una spiegazione secondo te oppure no, Alessio? Una risposta secondo me non riesco a trovarla in questo momento, anche perché comunque il contesto, il tutto, sinceramente una risposta, scusate, non la riesco a dare, ripeto. Non lo sappiamo, sono voci emergenti. Senti Alessio, ti ho visto molto carico sul palco, hai anche dato la tua carica al pubblico, sei stato contento, sei stato soddisfatto della tua esibizione? Sì, della mia esibizione, certamente, sicuramente potevo dare di più perché io voglio dare di più, però sono soddisfatto, sono veramente soddisfatto della mia esibizione, anche perché mi sono lasciato andare e quello che è arrivato penso sia una carica positiva. Penso che sia arrivato, a me è arrivato che ero lì al fianco ad ascoltare la tua canzone, ti faccio l'in bocca al lupo adesso. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.